Musica Hai idea di cosa sta facendo quella carne alle tue arterie? Non hai sentito? Il fumo scioglie il colesterolo. Niente carte, peggio. È questo, è un posto di classe. Dai, mi rilasso. Allora, come c'è andata? Benino. Quanto benino? Circa 80.000, più la macchina. Tutto qui? Ho vissuto quattro mesi in un albergaccio senza la tv via cavo per così poco. Sono stufa di queste bidonate da quattro soldi e per di più ho dovuto baciare quel viscidone. Non era così male. Comunque, incasseriamo di più la prossima volta. Ho in mente siato. Forse è San Francisco. Mamma, ricorda il nostro patto. Non ci sarà una prossima volta, era l'ultima. Vado per la mia strada. Ci risiamo. Sta accadendo, mamma. Accettalo, digeriscilo. Sono abbastanza grande per cavarmela da sola. Stai tranquilla. Tu non hai idea di cosa significhi cavarsela da soli. Te lo dico io cosa succederà. Te ne andrai, ti sentirai sola e arriverà qualche fusto deficiente che tu scambierai per il vero amore. Anzi, di sicuro giurerai che lo è. E poi, boom, ti metterai in cinta, sparirà e sarà come vedere la fotocopia della mia vita. Mamma, non sono così stupida. Sai cosa intendo? No, hai ragione. Sono stata stupida. Mi sono ritrovata piena dentro e sola fuori. Se Barbara non mi avesse insegnato questi miseri trucchi... E tu li hai insegnati a me? Me la caverò. Bene. Benissimo. Se proprio hai deciso, andremo a New York. E divideremo tutto.